Good morning, si come vedete c'è un solacecante qui, è l'1.05 quindi direi più buon pomeriggio il mattina mister master maestro o semplicemente o semplicemente david linch it's february 23 2022 and it's a Wednesday here in Naples ormai non posso dire più mattina ma a clear afternoon very still right now even if there is a soft wind and 57 5 and 12 14 this means that for me non è quella giornata veramente 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 fredda come in questi giorni in questo periodo appunto però per me perché comunque fa freddo in generale però come sempre invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto scorso dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo perché è impossibile ma quantomeno di combattere il freddo. Sì per quanto riguarda il video sui pensieri come sempre lo faccio separato da questo in caso mamma mia anyway as you just see from the window today we have today we have those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way ovviamente qui per altre due tre ore quattro ore essendo già al 1 e 10 bene così che direi ssssss said this so from the mythical window with the recolored curtain sublime oggi nulla da dire and it's green and it's green and it's green and it's green roller shooter behind me on the top not visible in fact here in this shot and finally from the mythical keyboard amadi gx 640 ipg ipg 625 a great day in all the people who follow the channel the reports si un saluto un saluto veramente a tutti e due and e and you and